benvenuti benvenuti cari amici siamo viti questo nuovo video naturalmente come sempre ricordo di distruggere il bottone like iscrivervi canale e iscrivervi anche il gruppo telegram oggi andiamo a fare l'analisi che sulla crypto total market cap per cui vediamo come ok attualmente la crypto total market cap sia a 2.30 trillions nel giornato che ieri abbiamo addirittura fatto un nuovo massimo a 2.53 e come vedete siamo chiaramente in trend line ascendente c'è stato un piccolo shake ok ieri sera che andremo a vedere però nel complesso direi molto molto bene addirittura la crypto total market cap era scesa a 2.14 trillions ma al momento siamo sempre in trend line ascendente non vedo alcun problema anzi secondo me questo shake ci fa benissimo perché presto potremmo raggiungere dal mio punto di vista e lo ribadisco a tempo i 3 trillions vedremo un po che cosa succederà andiamo a vederci la bitcoin dominance che crolla sempre di più guardate qui che movimento sulla bitcoin dominance eccola qua nella giornata ieri praticamente siamo scesi addirittura a 41 ok abbiamo sfiorato i 40 quindi secondo me è un qualcosa di assurdo ok arrivare a 40 sulla bitcoin dominance successivamente rimbalzo a 47 quindi diciamo c'è stato un po che di discostamento tra bitcoin e altcoin ora stiamo stabili praticamente a 45 che cosa mi aspetto mi aspetto che sostanzialmente se bitcoin riparte ok le altcoin performeranno ancora di più bitcoin quindi secondo me a questo punto ci avviamo verso i 40 sulla bitcoin dominance naturalmente come sempre non sono né consigli finanziari né di trading andiamo a vederci bitcoin perché proprio nella giornata ieri possiamo vedere come avevamo raggiunto i 59.594 dollari quindi eravamo molto vicini ai 60.000 successivamente ok abbiamo raggiunto i 53.000 ora siamo stabili in zona 55.000 vediamo che siamo all'interno di un triangolo discendente l'avevamo rotto ok guardate qua l'avevamo rotto però attenzione ok perché siamo ritornati all'interno di questo triangolo ora ci vuole di nuovo volume di nuovo forza e tornare a rompere io comunque rimango bullish ok il mio target sono i 64.000 e vorrei ragionare con voi su questo ok allora diciamo il primo dump siamo passati a 64.000 addirittura a 46.000 ok quindi l'abbiamo sentita forte soprattutto sulle altcoin successivamente ci siamo ripresi ora piccole a scossetta ok perché siamo passati da 59.000 a 55.000 quindi per me non è successo niente infatti ieri i ragazzi quando avevo visto nel canale telegram che commentavate crollo di qua di là io un po ridevo che me la ridevo perché insomma questo non è un crollo assolutamente chi ha vissuto il covid ok sa che quello è un crollo comunque secondo me andremo a rompere questa trenale discendente e pian pianino ci avviciniamo verso i 60.000 prima poi secondo me è il raggiungimento dei 64 che arriverà prima o poi e andremo a rompere l'ultima e questa è un po la mia visione naturalmente come sempre è la mia visione non sono consigli finanziari andiamo a darci ethereum perché ethereum sta tenendo alla grande ok addirittura nella giornata ieri guardate qua che differenziale da 4.200 abbiamo passato i 4.000 successivamente a 3.300 ok è naturale perché quando una coin cresce in questo modo anche è naturale che abbia di dump questo è stato veramente un flash crash e ora è stabile a 3.800 quindi un ethereum che secondo me è in salute e questo dump gli dà forza per la sua continuità d'azione a questo punto i 5.000 dollari su ethereum secondo me sono fattibili più che fattibili vedremo un po che cosa succederà andiamo a vederci ora binance coin binance coin che diciamo sta lateralizzando però attenzione perché è tendente a fare questi movimenti propulsivi rialzisti quindi attenzione potrebbe arrivare un movimento propulsivo da un momento all'altro io su binance coin comunque rimango bullish perché la bsc sta lavorando alla grande ieri c'è stato qualche problema però come vedete binance coin non sta assolutamente accusando il colpo perché abbiamo un'olta mai a 6.91 ora si trova a 6.42 quindi ha perso il 11% e secondo me attenzione a binance coin andiamo a vederci polkadot secondo me polkadot in questo momento è in sconto vediamo come attualmente la trendline ascendente sia stata annullata però secondo me manca poco ok per ritornare in trendline quindi saldi su polkadot dal mio punto di vista abbiamo un'olta mai a 48 prezzo attuale della coin 36 dollari per cui insomma ha un meno 40% meno 30% ok rispetto ai massimi che non è poco anche a livello speculativo potrebbe essere interessante naturalmente come sempre lo sono nei consigli finanziari di trading ma io vi segnalo che è la mia visione e ora che cosa potrebbe fare polkadot secondo me rientrare all'interno di questa trendline ascendente camminare all'interno di questa trendline ascendente e rompere il nuovo massimo andiamo a vederci chain link chain link molto molto bene perché è all'interno della trendline ascendente lo vediamo chiaramente addirittura la va rotta ma proprio in maniera flash invece ora siamo proprio dentro quindi attenzione a chain link perché quando una coin nonostante diciamo questi dump rimane all'interno di una trendline ascendente secondo me è fortemente bullish quindi oltre a mai a 53 secondo me può rompere ancora può rompere ed avere veramente una spinta forte andiamo a vederci Stella Lumens quello che sta facendo Stellar secondo me è un capolavoro parlavamo di questo movimento 5 ok che ve l'ho riprodotto qui del movimento 4 ora prossimo target quale guardate qui che bella struttura che abbiamo abbiamo una struttura con massimi crescenti minimi crescenti ok e all'interno del movimento 5 addirittura una giornata ieri abbiamo raggiunto il 0,78 perché? perché c'è stato l'annuncio che sulla borsa di Stoccarda ci sarà la possibilità ok di acquistare sia Stellar che Cardano quindi notizia è estremamente bullish una delle borse più importanti d'Europa che permette questo quindi io su Stellar non ho mai avuto dubbi la sostengo da tanto secondo me Stellar è un qualcosa di eccezionale naturalmente sono nei consigli finanziari nei trading ma questa è un po' la mia idea detto questo su Stellar abbiamo preso addirittura il 0,78 come vedete qua da trendline tracciando che quelli che sono i massimi mi ha quasi preso praticamente il target di 0,78 e 9 0,79 ora quello che mi aspetto è che andiamo a prendere il 0,80 ok pian pianino il mio prossimo target successivamente scarico fisiologico io spererai a 0,69 barra 0,70 che era diciamo questa resistenza per successivamente andare su secondo me vi dico Stellar in questa burran può fare veramente ma veramente tanto questa è la mia idea non mi sbilancio sul prezzo io ho un mio target di prezzo che è su Stellar per questa burran e vedremo se verrà rispettato naturalmente se volete sapere il target commentate scrivete insomma fate sentire la vostra presenza che ne ho bisogno ragazzi anche di voi e quindi andiamo avanti andiamo avanti con xrp xrp al momento 1,41 aveva fatto nella giornata di ieri 1,61 quindi un xrp in scarico però da quanto viene xrp? xrp fece un 100% da 0,48 a 1,95 praticamente addirittura scusate un 4x tempo una settimana ok quindi due settimane qualcosa di strabiliante dal mio punto di vista ora xrp sta leggermente lateralizzando tra virgolette attenzione però che anche xrp può scoppiare la SEC sembra che oramai abbia scontato quella notizia quindi attenzione a xrp anche se io rimango sempre bullish di più su Stellar rispetto a xrp ma questa è una mia idea andiamo a vedere Soliana ok Soliana che sta lateralizzando a un massimo a 49 dollari ora che cosa potrebbe succedere su Soliana? siamo passati 49 dollari e 38 coin molto volatile avevo tracciato che questo movimento secondo me che avrebbe lateralizzato fino a giugno per successivamente andare su potenzialmente ok è possibile quello che sta costruendo Soliana secondo me andatevi a vedere Soliana perché veramente un ecosistema pazzesco ci ho fatto anche un video secondo me in questo momento è un'ottima buy the dip questa è la mia idea disclaimer come sempre lo sapete a memoria e quindi attenzione a Soliana secondo me può avere un target molto più alto per quello che stanno costruendo andiamo a vederci RIF RIF diciamo in molti ok la criticano però guardiamo bene la struttura siamo all'interno di questa trenera scendente e la sta tenendo chiaramente lo vediamo e secondo me RIF non so in quanto tempo però i 05-06 saranno un lontano ricordo questa è una mia idea io ho delle dotazioni di RIF anzi punto a diventare un validatore di RIF perché è un progetto in cui credo veramente tanto e vedremo un po' che cosa succede secondo me RIF pian pianino può camminare in questa trenera scendente passare anche i 05 e secondo me una volta passati i 05 attenzione che RIF potrebbe esplodere andiamo a vederci infine VChina VChina ho un massimo a 0,27 in questo momento 0,20 però guardate qui che bella struttura con minimi crescenti guardate qua massimi anche le euro crescenti ora voglio vedere nei prossimi giorni un aumento di volumi ritornare all'interno di questa trenera scendente ok e pian pianino andare su fine 0,27 questa è la mia idea io sono fortemente bullish ok su VChina per cui vedremo un po' che cosa succede nei prossimi giorni ma secondo me non ci sarà alcun problema ok su VChina veramente un progetto pazzesco unico che secondo me io me lo porterò sempre avanti ok anche long term e vedremo un po' che cosa succede per cui se ti è piaciuto questo video ti ricordo di distruggere i bottoni like iscriviti al canale e ci vediamo presto